La rottura confini ha fatto perdere Berlusconi, il centrodestra estremista non piace all'area moderata. Noi costruiremo il vero centrodestra e lo faremo cominciando ad essere distinti e distanti da entrambe le coalizioni in questo ballottaggio. Non c'è una sola ragione per fare la ruota di scorta del berlusconismo e quindi la nostra decisione è quella di non appoggiare alcun candidato al ballottaggio.